buongiorno da obiettivo news oggi 28 dicembre si celebrano i santi innocenti e della giornata della festa dei santi innocenti è una delle tradizioni più popolari divertenti del natale spagnolo si celebra 28 dicembre e durante tutta la giornata è permesso fare scherzi ed è tradizione acquistare articoli divertenti nei famosi mercatini natalizi questa festa sembra richiamare un episodio della bibbia legato alla figura del re erode anche se con il passare dei secoli si è evoluta trasformandosi in una giornata vivace durante la quale persino i mezzi di comunicazione danno qualche notizia assurda e falsa uno degli scherzi più diffusi in questo giorno è quello di mettere la sagoma di un mino di carta bianca sulla schiena di qualcuno senza che se ne accorga si dice poi che è stata vittima di una inusentada ovvero di uno scherzo grazie a tutti